Bella ragazzi, sono Zebra3239 Sono qui con un nuovo video di Hunger Games Non commentate in live Scusate per l'assenza ma ora Avrò l'isame di terza media Quindi devo studiare Purtroppo Niente, con questo video Voglio dare inizio al mio primo contest Che Chi vincerà vincerà 200 coin Sui server SPHX Quindi Poi le regole le lascerò in descrizione Godetevi questa partita Mettete mi piace E al prossimo video Grazie a tutti Poi le regole le lascerò in descrizione Grazie a tutti. 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 Game over.